Proseguono i lavori per la rimozione della scera della festa di Sant'Agata. Ogni giorno sono state impiegate 15 squadre da tre persone, tra personale del comune, Ipi e Oikos, le due ditte che hanno in appalto la raccolta dei rifiuti. L'area su cui le squadre hanno principalmente operato è stata quella della via Etnea a Caronda fino alla piazza Cavour. Per sciogliere la scera rappresa sono state utilizzate apposite torce e la scera sciolta è stata ricoperta da segature, poi spazzata prima manualmente e poi da spazzatrici meccaniche. Sono state complessivamente schierate 70 unità tra autisti e operatori con 4 bobcat scarabili, due lavastrade, 10 spazzatrici in azione, fino alla completa rimozione della segatura e ripristino delle condizioni di decoro in tutta l'area interessata dalla festa. Fino al completamento delle attività, si prevede per giovedì 8 febbraio, la rimozione della scera ci sarà in tutte le aree interessate, con particolare riferimento agli altarini con l'utilizzo di 24 squadre munite di cannelli.